giocare a calcio pensavo a nascondini pensavo a guardia e ladri anche a casa con i bambini ecco stavolta dopo un secondo ma sei una cosa ti giuro ma fammi fare una domanda ma perché mi fai arrabbiare ti prego è una brava persona tranquillo è una cosa non mi ricordo neanche cosa devo dire dopo ascoltiamo l'autaro al quale si chiede se penserà alla Juventus stasera o quant'altro ma tu la pressione della Juve la senti? stasera l'Inter la sentirà tu la senti? stasera guarderai con attenzione la sfida del Via del Mare quello di sicuro che porta sfiga di guardare la guardo ma ovviamente capisco anche che una squadra che ha la vigilia di una partita è concentrata sulla partita di domani ma stavo dicendo che sono d'accordo con Marcello su questa cosa stavolta la metafora è giusta non mi ha risposto, ha snobbato completamente la mia domanda sto dicendo la metafora la senti o no la pressione? certo che uno la sente perché è una giusta a due come la Juve sente quella dell'Inter è una percentuale però magari ti senti più forte sei davanti in classifica la senti mia è per questo stavo dicendo mi fate dire il paraocchio fa parte della pressione io sono d'accordo che l'Inter debba essere come il cavallo con i paraocchi perché una Juventus vicina più uno, meno due adesso l'Inter andrà a meno uno stasera andrà a meno quattro sabato poi andrà a Firenze prima dello scontro diretto meno quattro poi ritornare a meno uno ti devi concentrare sul tuo quello che ti dice tu sei ladro ah no ma era una battutina me ne frega niente tu continua a dire quello che vuoi io vado avanti e penso solo la mia partita quindi ti piace come sta comunicando l'Inter no l'Inter quando gliel'hanno chiesto a Inzaghi di guardie e ladri sì non è per niente cascato nella storia perché quello doveva dire così così come Marotta Marotta ha detto no sono normali galletiche mentre Allegri vuole tirarci dentro la polemica beh per favore perché ti deve farti innervosire esatto e tu un po' ci caschi io ma non Inzaghi e Marotta non tu io sì perché mi piace non tu io sì l'Inter no perché tu chiaramente pensi questo ma scusa tu che fai il giornalista tu che fai il giornalista tu mi devi dire questo com'è che la gazzetta dello sport la gazzetta il principale quotidiano sportivo due giorni fa tre giorni fa se ne esce con la prima pagina no che l'Inter non aveva gradito no 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 che l'Inter non aveva gradito rabbia al max rabbia al max che l'Inter non aveva gradito perché perché sicuramente sono andati è uscito poi il mercoledì o il giovedì sono andati a chiamare quelli dell'Inter e gli hanno detto oh avete sentito il lavoro del giornalista scusami hai sentito e lì qualcosa qualcuno gli era cantato chiaramente off the record qualcuno gli aveva detto senti però io non ti ho detto niente come capita quello è il lavoro nostro ti fanno addirittura la prima pagina perché ti fanno addirittura se tu se tu non ti sei arrabbiato tu quando ti telefona il giornalista il giornalista il giornalista il giornalista ti dici ma no la figura non ce ne frega niente invece se tu fai la prima pagina è perché gliene hai cantata a quelli del giornalista certo che siete forti ho ragione tu Marcello Ferro è una interpretazione attendibile ho ragione è bello che quando ha detto il gioco di Guardia e Ladri Allegri voi avete detto adesso se qualcuno reagisce alla coda di paglia non reagiscono chi ha detto alla coda di paglia tutti gli opinionisti ma gli opinionisti la più no ma sto dicendo che come la fai fai come la fai fai sbagli perché se non dici niente no però è trapelato stai sicuro che è trapelato se lo dici e no vedi ci sono cascati hanno reagito sei cascata la provocazione allora tu devi stare ai fatti ma tu sei stato più sottile i fatti sono Marotta e Inzaghi cosa hanno detto tu sei stato più sottile non l'hai detto in pubblico così dici vedi come sono superiori i miei dirigenti off the record glielo hai detto è che se no quelli la prima pagina non la fanno allora Allegri davanti dice sempre l'arbitro è stato bravissimo poi 45 mila euro di multa perché va nello spogliatore sì infatti allora dottor Giacchino noi lo sappiamo che Allegri davanti non dice niente però poi si fa le sue ragioni nello spogliatore nel tunnel parla urla ok come fanno tutti gli altri allo stadio adesso non lo riprendono quasi mai però quando ho visto perché mi è capitato è sempre attaccato al quarto uomo così adesso polemico quando vuoi perché alla fine lo è è attaccato così e anche gli altri fanno uguale non è mai nella sua panchina ma stasera la Juve vincendo la metafora finisce qua guarderati no perché sei tra l'altro riportata anche la gazzetta questa loro metafora eh perché adesso se poi vincono a Lecce allora si invertono i guardi sono loro i ladri tornano a essere là vabbè ho capito ma dico finisce la china che si sta prendendo è quella che gli da talmente ognuno c'è il suo sogno ascoltiamo l'autaro sentiamo l'autaro sentiamo l'autaro a chi chiede stamattina se penserà risultato della Juventus se da Riad si informerà della Juve se il pensiero è un po' là a Lecce lui risponde così stasera un pensiero la Juve perché? la partita della Juve ah io no io penso penso alla partita nostra da domani perché domani noi per noi è molto importante il trofeo che ci giochiamo perché è uno dei nostri obiettivi in questa stagione e quindi penso preparare bene le partite a recuperare energie e pensare a Napoli solo questo ci crediamo? ma eeeh io no non ci penso penso no capito allora sicuramente lui è concentrato su Napoli è venuta anche la risatira nervosa io ha fatto attenzione ma sai che qua scoppio ma tu atto studio qua metodo Stanislaus no è bravo è bravo è bravo è bravo è bravo è bravo signore ho rivisto l'autano ma no siamo vecchi giornalisti possiamo dire così vecchi amici di alleanze abbiamo questa tesserina a Bordeaux io da 50 anni è perché io no è stato anche il direttore da 49 anni è un po' difficile no no Gianni è stato anche dire vabbè si può dire che è una bugia bianca che non ci penserà minimamente la Juve stasera ma scusa ma io sai che ho che se Lecce vince si fa due belle risate con gli amici in camera mentre giocano a Cato ma dove lo mettiamo se gli arriva la notizia è la notizia che arriva da Marte no ma senti senti questa senti questa osservazione perché hai ragione prego no no te la faccio dire a te la partita dell'Inter quando è lunedì sera quando gioca la Juve domani sera stasera e secondo te stasera a Riad loro vanno a farsi come si chiama Narghilè Narghilè tutti non ce ne frega niente della Juve col Narghilè aspirare Narghilè così in mezzo ai cammelli dove andiamo ma Lautaro ma scusate tu lo sai l'orario che c'è due ore la partita finisce alle 11 secondo te stanno all'uno in piedi per pensare a te stanno all'uno in piedi ma siamo primi in camera in camera escono dal casino e vanno lì quelli stanno sempre in due non in camera sono tutte le coppie diranno mettiti un po' la Juve io sono d'accordo vediamo che fanno ma io sono d'accordo che tu devi ed è normale è quella che insegue è la guardia per fare la metà che deve sperare che chi sta davanti cade però la pressione chi la subisce teoricamente l'Inter sì però scusa un attimo alla fine veramente se l'Inter facesse il passo falso a quel punto ma lo farà un passo falso lo prima poi lo faranno anche loro vincere tutto il giro ma oggi chi gioca la pressione comunque per forza di cose nella normalità deve avercela l'Inter oggi gioca la Juve l'Inter non gioca sì sì vabbè però comunque come hai detto tu prima avrà la pressione la Juve secondo me sì perché deve vincere per forza perché se non ho strutta l'occasione sicuro un po' di pressione c'è la cassa senza dubbio però se c'è una squadra che non può perdere questo scudetto per quello che io dicevo prima questa è la narrazione allegriana e giuntoliana no 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 ma scusa fammelo fare però Bremer ha detto di no Cesni ha detto di no Ramiò ha detto di no ma se vincere se perdete questo scudetto voi esplodete è una bomba atomica sì 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 voi l'avete quasi già perso è vero o no? ma tu non vedete il Borrelli che perde lo scudetto e che magari arriva Milena e Juve in testa facciamo lo spareggio questo si suicida nella vita è solo lo spareggio sì lo spareggio Milena e Juve pensa che sogno non ti penserebbe Gianni siamo le uniche squadre europee Gianni che tipo chi vince e vince tanto chi vince e vince ma pensa all'Europa League chi vince e vince tu pensa all'Europa League tu pensa alla Champions pensa alla Champions che così eh così meno lasci un po' di punti ma noi abbiamo un triplo obiettivo però guarda che loro hanno anche complimenti di Guardiola noi giochiamo su tre tavoli hanno la stima di Guardiola Gianni noi giochiamo su tre tavoli a te uno te ne è rimasto concentrati su quell'Europa League che è un trofeo prestigioso so che non l'hai mai vinta ho il 5% di possibilità di vincere questo Scudetto me le vuoi lasciare il 5% c'è il derby di ritorno ragazzi avete perso quando eravamo a tanti 7 punti se si gira Giroud ancora se si gira Giroud vi facciamo vincere lo Scudetto fatemi sapere ma a Torino andate Juventus-Milan? certo gli faremo vincere eh beh scusa ma adesso è una sacra leata però voglio dire un'altra cosa più determinati rifacendomi le dichiarazioni di Inzaghi del giorno prima il giorno prima chiedono a Inzaghi dopo la partita gli dicono però quest'Inter se l'ha stragiocato e lui dice sì vabbè ma tutti mi dite che l'Inter ha stragiocato sì ma è così da due anni e mezzo è vero ha detto questo caro due anni e mezzo che non vinci mai uno Scudetto che c'entra due anni e mezzo che non vinci mai uno Scudetto e non può e se gioperne quest'anno e via hai vinto una Champions League e sei arrivato in finale ma sai quante volte è andato in finale la Juve avete sempre detto un fallimento ha vinto due trofei l'anno scorso ma se perdi questo Scudetto domanda domandate via Inzaghi ma non lo so dipenderà dal come il quando ma no ma dipende molto anche da come va a finire se lo perde lo perde come vuoi che lo perda con la pioggia abbiamo perso abbiamo perso degli Scudetti quando non ti danno un rigore clamoroso quando palloni che erano entrati così tre partite erano gol e non li hanno dati però rispondi alla mia domanda dipende dipende però Gianni guardate un attimo l'Inter non si sa già adesso non si sa non puoi saperlo adesso però non potete fare neanche troppo il paragone dell'Inter dell'anno scorso con quello di quest'anno l'anno scorso scusami Marcello l'anno scorso cioè tante volte vedevamo la doppia faccia dell'Inter tante volte l'Inter entrava in campo con una mentalità completamente sì ma perché aveva avuto parlavamo prima di Scudetto vinto con una miriade di punti parliamo del Napoli infatti 16 punti in più quest'anno non è di certo quel caso io rimprovero l'Inter nell'anno in cui l'ha vinto il Milan perché comunque demerito anche dell'Inter buona parte della percentuale di quello Scudetto cioè quell'Inter Bologna Bologna-Inter adesso non ricordo Bologna-Inter lì è stato veramente il bivio fatale per ma Inzaghi rivendica nelle parole che dice però non si può fare il paragone tra l'anno scorso e quest'anno della squadra di Inzaghi ma hai ragione sul fatto anch'io sono d'accordo che l'anno del Milan l'Inter perché l'anno scorso l'Inter non giocava in questo modo l'anno scorso non ha mai lottato per lo Scudetto ma no ma non giocava in questo modo vedevi a volte anzi sembrava persino che ci fosse l'Inzaghi out addirittura ma per i risultati ma Marcello infatti io sto contraddicendo i Zaghi quello che volevo arrivare a dire è che io sto contraddicendo i Zaghi su questa cosa che ha fallito l'obiettivo Scudetto già dopo 8 giornate è vero però in questi 3 anni l'Inzaghi ha vinto comunque 4 trofei ha fatto una finale di Champions è tornata agli ottavi con Inzaghi dopo più di 10 anni ha riempito lo stadio fa 72 mila di media che non è un caso facciamogli la Sandy Gove è certo che gliela facciano infatti gli hanno aumentato l'ingaggio gli hanno rinnovato il contratto se senti lui non ha neanche i debiti cioè proprio lui vede un salti di palo in frasca salti di palo in frasca ma tu ma tu vivi ma che dimensione l'Inter gli ha rinnovato il contratto a Inzaghi gli ha aumentato l'ingaggio sono due anni e mezzo che il signor Inzaghi non vince il campionato e ha la squadra più forte perché la Juve non ha vinto un trofeo in questi due anni e mezzo con Allegri è arrivato Allegri zero trofei zero titoli scusa gli ha rinnovato il contratto che fatica a rinnovare quel contratto lo stavi per mandare via al 15 di aprile sì ma è la seconda volta che gli ho detto se guardavi il campionato perché l'Inter stava percorrendo due strade veramente opposte in Champions mostrava la parte più bella e clattante infatti si è arrivato comunque in finale ma se non arrivava a quarto lo mandavano via ma gli hanno rinnovato due volte il contratto da quando c'è la prima volta alla fine del primo anno quando perde lo scudetto con il Milan ma perché? perché Inzaghi lo ricordava altro ieri la società gli aveva chiesto di entrare nelle prime 4 aveva perso Lukaku a 115 milioni aveva perso Hakimi a 70 milioni poi lui è stato bravo a dare un gioco che ha fatto il sindrome di Stoccolma questo ma sindrome cosa? ma l'obiettivo dell'Inter non lo dai tu lo dà l'Inter la proprietà la società è Inzaghi Inzaghi sai come l'ha definito? è gift un dono perché anche quando quando stavo cercando l'autore che dono era? certo che cercava perché se arrivavi quinto era un dono riciclato se arrivavi quinto non ti potevi come così abbiamo parlato di Pioli prima prima di fare i funerali devi aspettare la fine ripartiamo da Lautaro gli si chiede in conferenza stampa se rinnovo è alle porte se quando tornerà metterà questa benedetta firma e lui insomma nicchia un po' eccoci qua ben ritrovati allora sembra debba arrivare sempre da un momento all'altro invece il rinnovo di Lautaro Martinez ancora non è giunto a chi gli chiede se arriverà il rientro da Riad lui risponde così in conferenza stampa non lo so stiamo lavorando con la società io sono contento qua e come ho detto prima sto pensando alla partita di domani poi arrivare a Milano a vedere ai miei figli che mi mancano tanto e niente però adesso penso alla partita di domani ma scusami ma perché inizia l'incipite non lo so cioè lui dovrebbe iniziare dicendo non ci sarà problema io voglio restare all'Inter la prima cosa che dice non lo so ma si ma ti arriva qui un Newcastle che gli picchia lì un bel 12 milioni vorrei casa delle certezze ha già contratti in mano esatto perché poi dietro a tutto questo amore per l'Inter e quant'altro ci può essere anche che ci sia una trattativa dove le parti per ora non si incontrano se no ci sarebbe sta benedetta firma scusa se siamo davvero almeno bianco il problema non è il contratto perché lui può pure firmare a 50 no 50 no però per dire a 11-12 e non è che se uno ha il contratto fino al 2028 non se ne andrà mai dall'Inter poi avete una situazione economica a Florida ma non è quello dipende sempre deve arrivare un club che accontenti prima il giocatore quindi deve dargli ambizioni sportive perché Lautaro è un ambizioso ha già rifiutato dalla rabbia deve farti un bel bonifico esatto e poi una volta che lui possa aprire alle ambizioni sportive più un posto dove lo mettono al centro del progetto più il doppio dell'ingaggio vanno dall'Inter che a quel punto entra in campo il contratto perché se hai un contratto fino al 2028 rispetto al 2026 puoi chiedere 150 puoi fare la grande richiesta ma no ancora non stai bisogno di soldi ad oggi l'Inter a differenza del Milan Lautaro lo porta prima a 6 e poi lo porta a 8 mentre il Milan per arrivare a 5 più bonus per Leao ha dovuto fare perché c'è il tetto di ingaggio mi viene un altro mondo Marotta Marotta no Marotta ti dice Marotta dice abituatevi a una cessione illustre all'anno perché io per vincere perché dici io per vincere non faccio come il Milan no perché dici io non faccio dipende dalle offerte non è che si decide prima quadrato vendono quadrato però sto dicendo la politica del Milan è tenere il monte ingaggi un po' più basso e magari io non devo per forza vendere il giocatore ma tu chi temi che verrà messo sull'altare più uno è forte più fa la differenza io temo che il prossimo mercato venderemo allora a parte Dunfris che non è secondo me il perno dell'Inter tra i perni non è che ti fa guadagnare perciò sto dicendo tra l'altro lo sta rinnovando e quindi a un anno dalla scadenza da? da 10 milioni stai dicendo? da 10 milioni Dunfris non è neanche di tolare ma come non è di tolare? va bene allora mette ma Boratale che vi fai regali diciamo che c'è una via di mezzo tra i 10 e magari i 40 esatto ma era 40 se arrivano 25 e quei bologni c'è tanto Dunfris è ancora giovane quanti ne ha? credo 27-28 ma sei tutto a memoria non sei di anni di Dunfris no ma stavo pensando al giorno del mese ti ha preso in castagna sa tutto quanti ne ha? Borrelli mi perde i colpi mi perde i colpi è 90 quanti anni ha? ne sto sentendo la pressione della Juve la sa sentire? 96 96 cos'è 96? è 96 è 96 ad aprile fa 28 anni 96 ti volevo dire il giorno quello che vuole volevo dire il giorno l'Emadur e la Ciresa come sentire a Milano scusi? l'Emadur e la Ciresa si dice Milano è arrivato nel 2021 un contratto fino al 2025 e adesso ci fa la storia il fatto che non è rinnovato non sai gli anni poi meno male che sono io quello che mi interessa va bene dai vai avanti vado avanti dicendo che Dunfris potrebbe partire perché entro il 31 dicembre potevi rinnovarlo col decreto crescita invece non hanno chiuso e quindi a un anno dalla scadenza se non rinnova queste stagne lo è poi si vedrà però ovviamente non puoi chiedere 50 milioni visto che è un anno dalla scadenza ma è quello il problema non il valore del giocatore che se avesse avuto il rinnovo pure 50 in Inghilterra ma tu chi temi che venga io temo ecco tornando i più forti del lì se devo partire solo i più forti cioè la tua argenteria qual è? dicono che sono io che intero ebbè ma giri sempre il tono si sintetico la capacità del giornalista è la sintesi porca bestia la prossima volta che parli tu ti dico che la capacità è la sintesi bastoni mettiamo il timer bastoni cialanoglu barella e lautaro sono i quattro più perni di dumpis bastoni cialanoglu barella e lautaro questi quattro di questi quattro dobbiamo entrare poi nella realtà cioè chi è che ha avuto l'offerto sta avendo l'offerto quello più pericoloso in questo momento non è detto che sarà in estate è cialanoglu perché alla fine di agosto stava finendo il mercato e in arabia hanno fatto un'offerta fuori mercato lui ha rimesso alla società la scelta lui in quel momento dice sta chiudendo il mercato io mi trovo bene all'inter l'inter ha detto abbiamo venduto Brozovic non possiamo vendere pure cialanoglu chi gioca e quindi però gli arabi quando puntano un giocatore io non escludo che stavolta all'inizio del mercato ritornino in quarta su cialanoglu anche se tanti raccontano alla rabbia che i bonifici non è che stiano arrivando proprio qualcuno si sta stancando Benzema e Hernández i giocatori si parlano eh no ma ti offrono se poi non arrivano al mese giusto ecco ma quella vuoi vociferare di Benzema all'inter no non abbiamo trovato un po' di scontro tutti i colleghi che seguiamo se arriva a parametro zero lo prendono no ma a zero sarebbe Benzema ne avrà 37 ok 87 ne fa 37 no ma poi non è una questione diciamo prima a proposito del mercato Murigno in ottica Napoli lo dice il Times lo ripende qualche quotidiano l'avevano scritto anche in Italia però sai il Times in Inghilterra sono molto diciamo sensibili alle questioni di Murigno anche quando è stato esonerato ne hanno parlato tanto qui aggiungono una cosa il Times oggi dice che si vedrà con De Laurentiis in settimana cioè prima si era scritto che era stato Tiago Mendes a proporsi a De Laurentiis qua invece hanno aggiunto no Murigno ha grande voglia di rivalse è rimasto malissimo per come è stato trattato dalla Roma allora vuol far vedere non in Arabia ma in Europa che ancora quanto durerebbero due personalità come fuori si però era venuto fuori che De Laurentiis avrebbe detto di no comunque avrebbe rifiutato perché l'ingaggio sarebbe stato veramente molto alto però a Conte 8 milioni sembrava la proposta volesse farla poi non so se per Conte vale un discorso diverso loro sono anche amici ma lui vuole anche delle garanzie sul mercato Murigno o Conte? Conte Conte vabbè però il Napoli rispetto alla Roma non ha il settlement agreement si è visto aveva chiuso 80 milioni di attivo l'ultimo bilancio adesso è partito in quarta perché De Laurentiis ha capito che ha sbagliato ne ha presi già tre e ne vuole prendere altri due ha preso Ngoggi ha preso Tauret ha preso Mazzocchi vuole prendere un centrale mi piace Baracca e un centrocampista e quindi voglio dire sta lavorando tra poco parliamo di Inter-Napoli in ottica finale perché domani c'è la finale di Supercoppa Italiana della quale Inzaghi detiene praticamente i record qualora la vincesse domani sarebbe la sua quinta personale la terza di fila con l'Inter allora lo ascoltiamo su questi record personali anche di squadra Inzaghi sarebbe importante per l'Inter per tutto l'ambiente perché sarebbe la terza consecutiva penso che sia riuscito una volta solo l'Almina nella storia nella storia del calcio italiano quindi sarebbe sarebbe importante non sarà semplice abbiamo vinto qui l'anno scorso contro il Milan due anni fa San Siro contro contro la Juventus e vorremmo farlo domani contro il Napoli ci tengo ma ci tengo più per l'Inter che per Simone Inzaghi chiaramente sarebbe sarebbe bello vincere vincere la quinta Supercoppa però come ho detto prima ho fatto i complimenti ai ragazzi che dal dal 13 di luglio da quando hanno cominciato a lavorare antepongono tutti quanti dal capitano all'ultimo ragazzo della primavera antepongono l'Inter alle gioie personali quindi è quello che deve essere il segreto di una squadra allora questo record che detiene ci tiene anche a livello personale ma scusa ma quando è venuto in conferenza stampa l'anno scorso due anni fa non mi ricordo più che disse Simone porta trofei Simone quindi è uno che ci tiene anche a livello personale per il proprio curriculum ma la Supercoppa Italiana che Valenza ha? no domande chi lo chiede? a lui? guarda Pirlo vinse la Supercoppa e la Coppa Italia arriva un quarto all'ultimo momento quarto a casa lui invece vince la Supercoppa per giocarsi le coppe in Zaghi secondo voi o è un caso che arriva spesso in finale non aveva il talento lui fa giocare bene le sue squadre giocava bene la Lazio e gioca bene l'Inter questo bisogna da l'Eneato la finale di Champions quando parliamo del Manchester City non stiamo parlando appunto dell'ultima a giocare anche belli anche però in quella partita lì no perché sai pensavo arrivassi a dire i gironi sono stati fortunati quello lasciamolo perdere il sorteggio lasciamo non voglio neanche entrare perché sennò inizia una polemica con Borrelli che ce la portiamo avanti fino al processo di Biscardi domani sera quindi non voglio nemmeno entrare in quella cosa lì però io sostengo che quella partita lì il Manchester City non è arrivato in formissima come si era visto il Manchester City durante la Premier me ne ero già accorto nella finale di FA Cup col Manchester United che aveva giocato sotto l'aveva vinta ma anche lì con una gran fatica andando anche sotto però capisci che sì però li vedi che alla fine te la sblocca chi dal punto di vista individuale perché hanno i giocatori hanno un bel gioco hanno un bel gioco però erano sotto tollo loro invece sono arrivati in quella finale molto più in palle molto più in palle comunque per rispondere a Paolo io faccio la metafora ciclistica Inzaghi era un allenatore un ciclista da grandi classiche era molto bravo a preparare le partite secche Marcello si ricorda le due finali una con Allegri una con Sarri ma anche altre partite la finale di Coppa Italia aveva vinto tre trofei con la Lazio eccetera e all'Inter l'ha confermato i tanti derby i record 5 in uno stesso anno solare con la Juventus è quello che vince più da quest'anno quello che ci ha messo in più sta diventando anche bravo nella corsa a tappe perché ha abbassato la media dei gol subiti e certo 10 gol subiti in 20 partite era una cosa che l'Inter l'anno scorso non faceva 16 gol in meno subiti finora la tensione alta mentre prima quando l'Inter pareggiava una partita io in conferenza sentivo Inzaghi a chi dire ma non è che le possiamo vincere tutte stiamo facendo un buon percorso adesso il pareggio col Bologna siamo incazzati disse non possiamo buttare i punti così perché perché per vincere lo Scudetto devi avere quella tensione che si diceva ma chi la dà lui al terzo anno è cresciuto da questo punto di vista forse vediamo adesso arriva il momento topico sta facendo 51 punti e un percorso l'Inter solo una volta ha fatto meglio in altra storia per me gli allenatori io li valuto dai loro curi e dalle loro vittorie io uscirò da questa trasmissione e spero che anche gli amici a casa forse avranno la mia stessa influenza tra virgolette quali amici? io sono convinto di aver sentito descrivere questa sera l'Inter come una specie di Santos di Pelé eh ma è così quest'anno è così è una squadra invincibile con conti a posto un allenatore irresistibile che sta diventando era bravo già nella Milano Sanremo adesso lo dice anche tu de France esatto e capite che è una roba costruzione il rinnovo del contratto non è un problema arriva qualcuno compra Dunfris il problema di Lautaro non è un problema no ma è tutto ha tutta una logica io me ne rendo conto ti ho parlato della cessione illustre continuo certo una cessione illustre però hai cominciato a parlare di Dunfris non hai cominciato a parlare di Lautaro non è vero ho detto il primo che ha incitato è Dunfris che ha detto al massimo di 10 milioni tu hai detto 10 milioni io ho detto a parte Dunfris lui sei partito da Dunfris cioè sei partito per dare una notizia però è vero quindi noi in questo momento abbiamo una squadra che è in un momento di forma straordinaria ma l'hai vista Interlazio credo che l'hai vista quindi posso localare l'hai vista Interlazio è stata spettacolare tu hai detto che è la Lazio che non si è presentata io dall'inizio dell'anno Inter-Bonta l'Inter ha giocato molto bene e la Lazio ha giocato mi arrendo scusate l'andamento in campionato della Lazio è lo stesso che abbiamo visto praticamente l'altro giorno quindi non è che stiamo parlando di un episodio eclatante cioè stiamo analizzando due squadre che stanno facendo lo stesso identico percorso stanno mostrando le stesse identiche cose dal punto di vista di gioco e i piani dei vari allenatori quindi non è che ci fosse da stupirsi che l'Inter l'altro giorno ha vinto e ha vinto così contro la Lazio la Lazio è così da tutto l'altro la mia vista la classifica volevo finire con la robina lì perché con lui non si riesce mai a finire perché entra sempre a gamba tesa sminuisci sminuisci vediamo come riesce perché è difficile sminuire l'Inter questa volta sai che secondo me voi potete finire a zero titoli se non vincete la Coppa Sto domani questo è che il calcio si può succedere perché il Champions secondo me non la vincete la Champions e il campionato ripeto non l'avete vinto se voi avete l'illusione di aver vinto questo campionato ti dico che voi ma chi l'ha detto io ho detto 50 e 50 ma ragazzi ma ti rendi conto ma allora invece di quello che vedi un Inter spettacolare che ti fa divertire i giocatori che si divertono in casa ma perché non ti piace il calcio ti piace solo il Milan non mi piace il calcio pensa che voglio che la Juve vinca perché mi piace talmente il calcio che voglio vedere la competizione comunque Inter spettacolare col Verona non l'avevo visto con il Verona con il Verona con il Verona non l'ho visto spettacolare e infatti ha avuto il calo in quelle due partite comunque attenzione perché tu descrivi un Inter che intanto voglio dire tutte le squadre hanno dei momenti importanti tutte momenti bassi down e momenti importanti l'Inter l'ha avuto l'abbiamo detto sì in questo momento è il momento massimo però siccome mi hanno sempre insegnato che arriva in primavera il momento chiave dove le squadre devono essere in forma per vincere lo squadetto ma questi sono tuoi auguri che possa andare male in primavera adesso analizza quello che vedi cioè la logica che vale per il Milan vale anche per voi cioè la logica la logica del Milan è che comunque se dovesse il Milan uscire fuori anche dall'Europa League ha molte più chance in campionato secondo me però ha un impegno che è comunque gravoso perché giocare in Europa League è una rogna loro partono addirittura da playoff da un sedicesimo di finale è che non è poco no 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 ma ragazzi io adesso non è che ne ho dette solo qualcuna allora la differenza a reti non succedeva dal 51 5 partite vinte con 4 gol 5 partite su 20 vinte con 4 gol di scarto 3 giocatori in doppia cifra solo in Real Madrid del Manchester City ma sembri crudo che vieni qua con le stagioni che faccia perché lui dice qui sto scoprendo oggi che l'Inter è fortissima ma tu ho capito questo lo sta dicendo il campo non è che lo scopri oggi da me ma se poi non ha ragione però non ha ancora vinto è certo che non ha vinto a gennaio ancora non hanno mai segnato Scudetti però ha ragione Gianni se lui ti dice se però alla fine con tutti quei bei numeri con quelle statistiche non vincini niente ti rimangono i numeri e che vuol dire e che vuol dire quello che abbiamo appena detto tu giochi per dire se sei forte dici no tu stai correndo e stai battendo il record della maratona a metà maratona ma puoi pure avere un che ne so non dico che vuol dire che non è vero può venire a piovere scivoli perché se no stavo dicendo una cosa brutta c'è un po' contraddittorio perché Dimitri difendi per sicuro dai che vinci qualcosa chi l'ha detto per sicuro adesso stai dicendo questo ho fatto la cronaca della prima metà di stagione tu sei abbastanza sicuro la seconda metà scorgi della sicurezza ma se io ho sempre detto cinquanta e cinquanta tu parli dici cinquanta ma ci credo io io capisco che siccome voi sono il tipo non riuscite Michele sì perché tu ti auguri Michele non stare sempre a rispondere su tutto posso farti una domanda su in Champions League cosa pensi che posso dire io ecco qua sono d'accordo arrivata a Wembley arrivata a Wembley no io sono d'accordo con Gianni che andare avanti ti toglie qualcosa in campionato non sono del partito come finì non andare non parlare da Marco Cacop sto dicendo che nonostante questo dimmi cosa pensi che farete in Champions League con l'Atletico ti sto dicendo che nonostante questo che è un pericolo per il campionato secondo me quando entri in campo con l'Atletico non puoi non giocarla a massimo ma la tua no per me con l'Atletico lascia stare l'Atletico io dico la tua aspettativa allora in campionato hai vincere la seconda stella la tua aspettativa in Champions qual è? puoi arrivare in fin finale o vincerla la Champions? però ti mi stai chiedendo un pronostico e non hai capito già il primo io il primo ho detto che 50-50 con la Juve non mi aspetto che vince lo scudetto l'Inter ma aspetto che lo può vincere l'Intero in Champions invece ci sono tre squadre secondo me più forti che sono i Real Madrid il Bayern Monaco e il Manchester City ma quante possibilità e dipende anche dai sorteggi ma qual è scusa l'Inter è ancora nelle coppe se l'Inter esce con l'Atletico Madrid le percentuali come si spostano? se ha più due dopo l'Atletico Madrid ed è uscita con l'Atletico Madrid l'Inter diventa favorita se non ha altri infortuni ma largamente favorita? no come largamente secondo me la Juve è una squadra che supererà gli 85 punti quindi è una squadra che ti darà ma allora però scusami però cioè io devo capire la Juve non è che gioca con l'Inter io vedo McKinney vedo Locatelli cioè giocatori chi normale chi ancora non è esploso poi vedo Cialanoglu che è uno dei migliori centrocampisti in Europa lo dice lui vedo Amiche Italia che mi racconti che è fenomenale Barella è il miglior centrocampista italiano e mi dici che sono là l'Inter e Juve ma tu Paolo è come quando gli interisti volevano sminuire il Milan che vinse lo scudetto dicendo come si fa a perdere lo scuetto con Messia e Salma Kers il Milan non ha vinto lo scuetto per Messia e Salma Kers ha vinto perché ha avuto delle eccellenze come Mignan, Hernandez, Tonali e Leao che hanno fatto la differenza o Giroud adesso la Juventus anche se ha McKennie e Rocatelli che non sono Barella e Cialanoglu ha una difesa con Bremer Danilo e Cesni che non prende gola l'Inter ha Pavara Cerbi e Bastoni infatti tutti e due faranno tanti punti il problema è chi ne fa due o più però il centrocampo mi sembra che sulla carta la difenza sia abissale ma infatti l'Inter con quel centrocampo più qualitativo gioca in modo più bello da vedere non mi puoi dire che a Pari Armi la Juventus si chiude e riesce con la scuola sì ma non mi puoi dire che a Pari Armi non sia favorita l'Inter come Rosa cioè non me lo puoi dire si chiama Mariana che non ti fa nessuno no io ho detto quello che hai detto tu cioè il fatto che è impegnata anche in Champions ti toglie qualche punto se no l'Inter è gran favorita se no l'Inter era davanti gran favorita è grande no perché se la Juve fa più di 85 punti tu non è che ne puoi fare 200 sempre 90 ne fai voi siete entrati in conclave in scuola in scuola in scuola in scuola Mariana no ma per centuali scuola secondo me adesso indifferentemente da come possa andare il percorso in Champions dell'Inter comunque l'Inter siamo d'accordo sul dire che ha la panchina più lunga del campionato quindi togli uno metti l'altro a momento il panchinaro che ti subentra è più forte del titolare che c'era in campo quindi sì ma su questo c'è è una nota di merito alla società di Inzaghi e ecco e la differenza comunque per dire con il Milan è che probabilmente la preparazione atletica è anche diversa perché l'Inter non subisce questi tipi di infortuni cioè ci sono Lautaro quante volte è mancato durante due volte appunto in due anni due volte parliamo di una persona che gioca che hanno vinto lo stesso insomma sì 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 ma infatti proprio per quello perché comunque Arnautovic può piacere può non piacere però comunque ha segnato adesso indifferentemente da come e tutto quanto eh vabbè infatti vedi che te lo stavo dicendo indifferentemente da come però io credo che ma quell'altro Gio vedi quella che faccia che fa sì sì no l'ho visto ma infatti ero riferita a te lo stavo facendo fronte a lui su questo ti stai borrellizzando non mi hai dato la percentuale no no è vero guarda ti rispondo subito stai tranquillo no io ti dico ti stai borrellizzando no 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 chi va con i borrelli io ti dico no ma guarda che io sono d'accordo però con lui vedi che te l'ho detto siamo due a due 50 e 50 perché la Juventus comunque con il modo che gioca o meglio Allegri come gioca come fa giocare lui l'ha detto due mesi fa io gioco per lo 0-0 0-0 cosa significa che tu mantieni al massimo anzi minimo puoi pareggiare al massimo vai a segnare al novantesimo ottantanovesimo quello che ti pare però rischi di vincere però mi stai dicendo che è il modo migliore allora perché non giocano tutti così se è il modo migliore ma scusa lo sappiamo che Allegri ha una filosofia di gioco completamente opposta a tutti gli altri e lo stiamo vedendo ma chi lo dice che è il modo migliore per la rosa che ha forse per la rosa che ha certo per quello che ha perché il mercato dell'anno scorso o meglio non ha fatto mercato ovviamente dopo le vicende di gennaio scorso però alla fine Gianni aveva detto 50-45 quindi alla fine siamo tutti d'accordo stiamo dicendo tutti la stessa cosa sul fatto che la Juve è in piena corsa dobbiamo fermarci no no ragazzi scusate no perché non ha messo il 5% del Milan una battuta no una battuta? una battuta prova guardiamo che è un rischio grossissimo avere il 50% di vittorie perché è come mettere un capitale sul rosso e sul nero rischi tantissimo all in dai ci fermiamo rientriamo ancora con Inzaghi che parla della partita ci andiamo a rifare sulla partita di domani anche le parole di Mazzari Mazzari che ha virato drasticamente sul suo vecchio Napoli allora tra poco ascolteremo anche Mazzari con il nostro Federico Bertone a tempo record ci ha preparato una clip prima però andiamo a vedere l'Inter come dovrebbe schierarsi in campo con dei dubbi Michele perché lo stesso Inzaghi faceva riferimento al fatto che qualche giocatore ha affaticato senza però fare menzione diretta e sì è vero ci ha lasciato un po' con questo retro gusto perché l'affaticamento ecco per esempio prima Marianna citava il fatto che l'Inter ha meno infortuni che a volte si dice fortuna a volte si dice invece una buona preparazione ecco una buona preparazione no ma anche a volte subito dopo che te l'ho detto ho letto adesso forse lo stavi per dire tu che bastoni adesso è a rischio perché c'è stato la fatica di risultato sì adesso quello che volevo dirvi invece è la prudenza dello staff compreso Inzaghi che è tutta nel per esempio l'ammonito l'ammonito esce non è un infortunato però per farvi capire il ragionamento quando lui vede oggi ha parlato ho visto alcuni dati che non mi sono piaciuti quando lui vede il dato che non gli è piaciuto in una partita gli chiedemmo ma perché Tol Tuturam stava giocando benissimo aveva fatto troppi strappi forse era lì cioè lui è sempre super prudente fantastico non ti sto dicendo che è fantastico perché magari fa il cambio che ti fa perdere la partita esatto per troppa prudenza quindi per questo secondo me non è un caso che ha meno infortuni magari Pioli dice no stringi i denti stringi i denti e si rompe due mesi Gliadro lo fa Gliadro che fa il calcolo gol dell'Empoli ragazzi 3-0 Empoli ancora Zurkoski mi sa si tripletta è incredibile ancora tripletta di Zurkoski tra l'altro nel Monza sta per entrare Daniel Maldini che pensate è appena passato dall'Empoli al Monza è tornato nel suo ex stadio e si sta prendendo tre fischi subito quindi non un esordio fortunato per Maldini sicuramente sì per Davide Nicola tripletta per Zurkoski un giocatore leggermente ritrovato vanno carichi a Torino la settimana prossima infatti guarda mi ha già scritto un paio di miei amici terribizzati hai visto l'Empoli subito io ho detto ma già all'Empoli pensate una vita con l'ansia addosso ma state tranquilli è arrivato al momento giusto allora stavamo dicendo che allora i dubbi Cialanoglu è uscito chiedendo il cambio però era stato solo una botta era stato anche ammonito era stato anche ammonito la legge di Inzaghi però con la Fiorentina non ci sarà perché era stato ammonito in campionato per questa nuova legge supercoppa chi è questo? Cialanoglu quindi Cialanoglu ci sarà a meno che non succeda qualcosa di strano perché? perché salterà già Fiorentina e Inter gli altri forse Di Marco che di solito viene sempre sostituito a metà secondo tempo invece l'ha fatta tutta c'è un check intanto vediamo con Carlos Augusto ah no pensavo il check di Di Marco Carlos Augusto potrebbe anche giocare Carlos Augusto davanti mi aspetto quello che avete scritto Turam Lautaro Barella è diffidato ma non lo puoi togliere perché è diffidato perché vale se non c'è bastoni dovrai in mezzo a Cerbi in mezzo sinistro? se Di Marco sta bene è anche Carlos Augusto dietro che ha fatto molto bene a Napoli quindi lì c'è la doppia chance dovrai a Cerbi se vuoi essere più equilibrato senti Dunfris al posto di Darbian ci sta tu te lo porti a casa tu te lo porti a casa Dunfris al posto di Darbian ci sta perché perché Darbian sta giocando ma che percentuali siamo fammi capire 80-20 per il Napoli che io ho visto fino al di là della parità con la Fiorentina il Napoli visto lì senza Osimè senza Anguissa loro vanno fatto tranquilli per me vincono tranquilli Anguissa, Osimè e Zilinski 60-40 dai 60-40 per dare delle chance Zilinski ce la fa? forse non lo mette nel senso che gioca con quel nuovo modulo dove mette i due mediani però Zilinski è entrato nell'ultima quindi quindi dovrebbe farcela sì anche io su questo sono d'accordo Zilinski che è impredicato di passare a lì sì sì diciamo che la testa è altrove meglio che non gioca visto l'Inter e visto il Napoli secondo me si può dire che l'Inter ha più chance diciamo se ripetono la testa effettivamente anche se il Napoli ha giocato giovedì e l'Inter venerdì se ci fosse Murillo oggi Zaghi ha detto no Zaghi oggi in conferenza l'ha detto dalle 4 alle 14 volte che ha avuto solo due giorni e mezzo però ha detto che sono nella stessa condizione mentre Murillo avrebbe subito detto sono 24 ore avrebbe rimarcato di più per dire no però è vero il Napoli ha vinto 3 a 0 con la Fiorentina l'Inter ha vinto 3 a 0 sono due 3 a 0 completamente diversi perché la Fiorentina sull'1 a 0 stava attaccando aveva sbagliato un rigore era vicino il Napoli in contropiede ha fatto poi ha chiuso la partita poi l'Inter l'Inter stava dominando poi non riusciva a segnare gli hanno regalato il solito rigorello come regalato perché manco quello era rigorello per me no assolutamente poi però io non tolgo meriti all'Inter io non tolgo meriti l'Inter ha meritato di venire e avrebbe stravinto lo stesso quando sono triste il rigorello secondo Marcello Pirico io quando l'ho visto mi sono alzato me ne sono andato e non è possibile non la possiamo mandare però dopo te la faccio vedere Michele ma anche i nostri amici si tu hai detto che era rigore fallo di mano di Michitarian che l'ha presa di cosce no stiamo parlando del rigore capi però non sei attendibile come non è attendibile lui che è mano di Gagliardini ti dice che non esiste si vabbè ma rigore o non rigore tanto avrebbe vinto perché si avrebbe vinto avrebbe vinto però Mariana scusami sì però non è colpa dell'Inter se gli è andato in rigore cioè questo è il concetto appunto l'ignoranza è in bar è colpa sua però glieli danno sempre a lui ma Pedro ma Pedro prima c'eravate voi adesso ci sono loro Marcello Pirico l'ha incominciato no però scusami se tu sei ragazzi no non state parlando in quattro però io sto parlando esatto deve bisticciare sempre con qualcuno lui deve bisticciare però non sapere come avresti fatti gli accoppiamenti tu oggi di voi quattro ma tanto era perché ci abbiamo pensato è un uomo è un uomo tanto è un uomo anche se lo metti di là dietro al paravento urla e si metta lui carica la sveglia alle tre del mattino per sempre se non parlo senti che cosa succede escalation tu sei una squadra già forte l'Inter è forte io non sto dicendo che la partita è stata rubata sto dicendo che tu sei già forte non riesci a in quel momento non riesci a fai tante occasioni ma non riesci a passare ti danno quel rigore lì la pratica è chiusa all'inizio del seguito tempo Marcello nel mondo solo tu hai detto che non è il rigore quello del Monza Gagliardini e quello di Pedro Lautaro nel mondo forse non lo so in qualche straterrestre è Lautaro che fa fallo c'è un'immagine che dice ma scusami c'è un'immagine che ci fa dopo te la faccio vedere sembra che Lautaro peste il piede perché in seconda di come la giri magari non è che giri l'immagine però la girano sempre da tuo favore c'è mai che la girano da nostro favore ma tu hai sentito un amo violo un muo violista un articolo che fa la pelle ma ho gli occhi per vedere non c'entra ma se gli udici occhi nel mondo i tuoi che dicono che non è rigore mi viene il dubbio che invece fosse rigore il pallo di Pavard il pallo di Pavard ti ricordi? no giuro perché dice ha preso la palla ha preso la palla non prende la palla cosa dici Michele? ma come Pavard? è partita giusto per tirare in fuori in un altro caso no giusto così ma lasciamo la venda e basta il rigore comunque l'Inter-Lazio ma in Inter-Lazio c'era pure un rigore per la Lazio e vabbè ma voi vedete solo quello che vi diciamo in Inter-Lazio sono le copie ma l'Inter però ti stiamo dicendo tutti l'Inter ha vinto meritatamente ti spiana la strada è un po' come l'Inter Udinese ma cosa spiana? erano 1-0 l'Inter Udinese vince 4-0 l'Inter è nettamente più forte Udinese sicuramente vince però siamo al 35esimo minuto per una roba che Lautaro fa il solito che si butta gli danno il rigore e poi vinci 4-1 e poi vinci 4-1 si butta come al solito ma perché non vai in aria perché non vai in aria perché si butta dopo il rigore che gli hanno dato con la Lazio che va a vederlo l'hai visto Gianni? che va a vederlo al All-Field Review e poi dopo ritorna e indica il rigore però il rigore non era nel secondo gol sì sì secondo quindi voglio dire questo ragionamento lo farei sì però il ragionamento è da fare se appunto stai facendo ti fanno un 1-0 con il rigore però comunque parliamo già di un gol prima il rigore è venuto dopo eh la chiudi la chiudi ma tanto avrebbe venuto lo stesso la chiudi lavesse presa a pallonate Sarri ha detto oggi abbiamo fatto quello che non si fa nel calcio hanno annullato pure il 3-1 a Immobile subito immediatamente mano 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 quella hai visto non si guarda mano mano quella hai visto cioè non l'ha presa con la mano Immobile non l'ha presa con la mano no non l'ha presa mi sembrava allora io faccio un appello agli interisti quando siete un po' giù di morale mettete la moviola di Marcello Chirico e le sorriderete ma come facciamo a fargli vedere quell'immagine lì Paolo secondo te ma tu non l'hai visto Pulisic che l'ha presa di mano col Genoa adesso vuoi parlare di viola io ce l'ho io l'ho messa sopra il mio profilo Twitter ma guarda c'è chi è riuscito a mettere delle immagini mi ricordo una volta di Marco o Bastoni che l'aveva presa con la mano perché aveva cambiato la prospettiva oppure hanno detto alcuni questi in questo caso interisti Rabiot è fuori gioco Juve Roma le girano va bene ma li tirano le righe e anche tu tiri le linee così tu sei uguale a questi allora facciamo così allora Michele te l'ho girato questo episodio di più tanto si parla guardalo e dice al volo se secondo te Lautaro pesta il piede al giocatore della Lazio invece che subito al volo c'è il cellulare c'è il cellulare da un milione di euro no dirà di no dirà di no perché dice l'hanno ripreso da qua inquadriamolo inquadriamolo qui no non si vede per niente qui non si vede il fallo di Pedro qua sembra proprio che Pedro non fa nemmeno fallo ma perché arriva dopo l'autaro pesta il piede ma qui non c'è proprio il calcio di Pedro in questo sospettone ma è l'intelligenza artificiale che ha creato questa roba questo falso storico è la realtà no non è la realtà non è la realtà è l'intelligenza artificiale no se tu la vedi la vedi tutta la devi vedere tutta Pedro tutto l'ho vista per il palo Pedro gli fa due falli ma prima lo prende lui il pestone sul piede sì vabbè e come mai Pedro non ha detto niente una povera vittima che sta perdendo la sospettura Pedro perché non hai detto niente no non ti sembra strano oggettivo invece Pulisic l'ha presa col braccio col germe ah Pulisic non l'ha presa e mia zia quando rimane sempre perché non sei attendibile non sei attendibile non è che sta a commentare il suo va sempre no riguardi questo quello di l'autore riguardi questo free climbing si chiama free climbing quello di Gagliardini col Monza riguardi questo free climbing ancora no ma scusa Gagliardini col Monza mi sembra che anche io ero l'unico in tutta la televisione in tutta network a non aver visto può darsi che lui adesso vedo che anche Gianni non l'ha visto ah tu di Gagliardini non l'hai visto? no siamo in due tutta network siamo in due tu l'hai visto? ma io sento una sirena sento una sirena e ti vengono a portare via no no chiama la chiama la ma non veni i rigori per lì per te sono venuti per te forse allegri con i parametri stiamo parlando di Napoli a tra poco Walter Mazzarri non solo dice non firmo per i pari ma rivendica anche la sfida di campionato dove il Napoli ha perso sì 3 a 0 ma dice lui avendo più possesso palla avendo palle e gole e tutto e poi loro hanno fatto 3 gole primo tempo secondo il Napoli è quasi scomparsa poi lasciamo perdere gli episodi no gli episodi è veri poi è meglio non parlare secondo me la palla è primo gole ha vinto 3 a 0 però nel secondo tempo il Napoli è veramente si è sciolto però con questi episodi di cui parliamo è possibile che non ce ne sia uno contro lì ma guarda che sono fortunato il problema è che nel momento in cui Napoli ci prova non segna poi gli dai un gol dove c'è un evidente fallo a centrocampo vai sotto c'è ancora la possibilità di avere un rigore non glielo dai e risegna di nuovo Barella la partita è finita tutto è girato a favore di una squadra e contro l'altra che già è forte non ti allargare però scusate non hai perso 1 a 0 hai perso 3 a 0 quindi comunque vuol dire che qualche lacuna ce l'avevi anche tu ma dopo un po' molli cioè nel momento in cui non ti va bene niente invece è il contrario ci provi fino all'ultimo come ha fatto appunto il Milan ieri ma no ma non esiste ho capito ma l'abbiamo detto ma sono persone che guadagnano quello che guadagnano e tutto e un gioco ti mette in gioco se ti girano se ti girano e un gioco ti mette in gioco ripeto non hai perso 1 a 0 hai perso 3 a 0 Marcello ma vedi l'1 a 0 l'1 a 0 nasce da un gol viziato da un fallo poi nel secondo tempo Sommer mi sembra che fa una parata e poi c'è l'episodio a Cerbi non te lo danno non te lo danno chiaro che alla fine dicevo ma qua che dobbiamo fare e alla fine l'Inter dilaga e vabbè però se non gli dai gli altri allora dovevi difendere perché quante volte però scusa un attimo quante volte abbiamo criticato il Napoli proprio per la facilità di penetrare nella difesa del Napoli perché comunque quante volte è capitato anche con squadre piccole adesso non ricordo bene quale squadra avversaria aveva preso c'era un attaccante che ha scartato tutti e tre i difensori del Napoli e è andato a segno ma questo è capitato è capitato due volte una consecutiva all'altra tra l'altro nell'Inter Barella io Marcello sono d'accordo del fallo di Lautaro erano due squadre di bassa classifica io sono d'accordo ma lì l'azione sul fallo di Lautaro non sono d'accordo sul rigore ma quando Lautaro due settimane dopo in Napoli Salernitana danno un rigore quasi simile al Napoli per Simeone ci lamentiamo dei rigorini lì c'è un leggero comunque al di là di quello il contatto è quasi uguale al di là di quello dico l'azione prosegue e la difesa poi è tutta schierata non è che nasce un vantaggio da quel fallo perché dopo l'azione è molto lunga però sono d'accordo con te che c'è fallo nel secondo tempo però se lo annulli siamo 0-0 siamo 0-0 nel secondo tempo 0-0 il Napoli può fare la sua partita ma non la fa non perché l'Inter segna il 2-0 non era partito male non era partito male nel secondo tempo poi hai l'episodio oh ma gira tanto scusa Mariana ma gira tanto se tu gli dai quel rigore lì ho capito psicologicamente cambia questo sicuramente però ripeto comunque i problemi in difesa comunque ce li hai perché ripeto puoi perdere 1-0 e giocare non male anzi puoi anche perdere Napoli 3-0 non perde magari perde 2-1 ma non perde 3-0 oppure finisce 1-1 ma se tu rimani in 10 con il Verona cambia se tu rimani in 10 con il Verona cambia la partita 10 che? la Juventus con il Verona perché dovevo rimanere perché la riga ma perché quando c'è l'episodio 2 ancora comunque allora sul Napoli ancora con sto Gatti che ti hanno dimostrato con le riprese visto che a te ti piacciono tutte le riprese con le riprese è clamoroso ma non è clamoroso non gli fa niente non gli fa niente la riprese solo che voi quando vi intestate dovete far passare quella linea come la linea di Calciopoli loro hanno telefonato loro rubano le nostre le intercettazioni non valgono passiamo a Napoli Inter è sempre stato così passiamo a Napoli Inter che è meglio dai se tu neghi il pugno neghi è una cosa evidente ma non c'è pugno ma era più pugno con Napoli era più pugno con Napoli anche con il Nao l'ha rifatto e poi gli hanno dato il premio scirea probabilmente c'è stato più ti sto dicendo c'è stato più errore con Napoli l'anno prima che quella sera lì colpire o tentare di colpire non si può fare colpire o tentare di colpire arriva sta palla alta gli altri vanno a contrasto indietro l'altro gli dà il colpo non è che gli ha dato chissà che sta sbracciando comunque due cose velocissime una sul Napoli una sul Napoli dimmi quando vuoi vedere la formazione del Napoli magari anche subito perché il Napoli così ti dico anche una cosa sull'Inter che stavamo dicendo prima ecco Cajus sembrava fosse uscito potesse non invece sembra che come è in grafica queste sono probabili chiaramente chiaramente la cosa che ci impatta di più è che il Napoli gioca con la difesa a tre con Di Lorenzo come si suol dire ai giorni d'oggi il braccetto di destra anche con un po' meno di possesso abbiamo visto ma Raspadoni perché è sempre fuori ha scelto Simeone che ha segnato l'1-0 il trovare della nazionale ma non gioca nel Napoli Simeone e Raspadoni sono due ottimi giocatori Simeone gli ha risposto molto bene ha segnato e lo conferma secondo me ci sta così come ci sta Mazzocchi a tutta fascia Mario Rui per forza perché Olivera non c'è ma tu come Raspadoni preferisci Simeone ma non saprei scegliere sono tutti e due diversi uno è più prima punta Simeone e Raspadoni un po' più falso nueve sono tutti e due bravi attaccanti a me piace tu a quali faresti giocare ma se Simeone ha segnato io uno che sta diciamo col morale a mille lo riconfermo anche se a me Raspadoni piace molto ma questo ritorno alla difesa 3 convenite tutti eh ma perché il Napoli senza Kim per mille motivi aveva molto possesso con Spalletti non ci riesce più a fare quel tipo di gioco almeno così un po' più coperta perché Juan Jesus con Rachmani non ti danno quella sicurezza poi manca pure il portiere così con un atteggiamento diverso un baricentro più basso un po' più le linee compatte secondo me un po' più ecco anche l'Inter gli piace di più quando le squadre ti attaccano che ha gli spazi quindi potrebbe un po' soffrire questo atteggiamento diverso dall'altra parte quindi Mariana giustamente prima diceva di Bastoni che in effetti pure gli amici che sono inviati lì a Riad mi confermano oggi si è allenato a parte in dubbio l'hanno visto fare la cicletta e non ha fatto mentre Mkhitaryan si è allenato col gruppo ma era uno di quelli che insomma ha dato molto e potrebbe essere in dubbio cioè magari Frattese una volta nella vita gioca a secolare esatto quello volevo arrivare che se non gioca a Bastoni abbiamo dato due possibilità a Carlos Augusto se vuoi essere molto più propositivo a Cerbi con De Vrij centrale che sta bene se vuoi rimanere più equilibrato al posto di invece di Mkhitaryan se non dovesse giocare dall'inizio ma oggi si è allenato con il gruppo secondo me è scontato Frattesi nel senso che Barella andrebbe sul centro-sinistra Fra Frattesi Cianoglu Barella poi Mkhitaryan fai fatica a rinunciarci Mazzari si gioca qualche possibilità di rimanere al Napoli l'anno prossimo secondo voi? Per me No? Ma no Cambiano sicuramente Cioè se vince la Supercoppa e arriva in Champions League Si vince la Supercoppa Secondo me sta già cercando un allenatore io credo che Secondo me anche Era il classico tappabuchi I colloqui C'è questa roba questa roba ipotetica di Mourinho che potrebbe essere già un colpo di teatro Sì però ragazzi cioè Mourinho ti chiama sempre però poi ha una logica per il Napoli prendere Mourinho Se arriva Mourinho impazziscono più che a Roma sono nomi Secondo me anche il quarto posto può spostare perché il tipo di investimenti se il Napoli va in Champions può cambiare e cambiano tante cose con Napoli in Champions League abbiamo visto il bilancio del Napoli ha quasi raddoppiato i ricavi tornando in Champions League Ricordiamo che De Laurenti si aveva sempre corteggiato è stato molto vicino a Gasperini anche no Gasperini scorso anno e Gasperini non so se ha finito il suo ciclo a Bergamo quindi potrebbe essere anche quello rientrare in un progetto Però De Laurenti per dire piaceva anche molto Italiano che in effetti se mai non facesse bene perché la Fiorentina ricordiamoci è partita molto bene però adesso ha iniziato ad andare in fase calante quindi potrebbe magari anche ipoteticamente sbucare il nome di Italiano e ha anche un ingaggio un po' più contenuto Se tu hai un allenatore come Italiano che fa un gioco Ma avevano già contattato Eh infatti E disse di no Sia lui che Tiago Motta Sì sì esatto Però l'investimento è vero quello che diceva Michele sarà tutto deciso da arrivare alla Champions perché se hai arrivato in Champions vuol dire portare a casa almeno 30 milioni Poi se gli metti Gianni vai in Champions quelli sono quei 50 l'anno prossimo è la nuova Champions quindi sono più di 50 Quindi la nuova Champions poi Ozymane può essere venduto la clausola che è a 130 più o meno hanno messo una clausola altissima Certo Un allenatore che ha idee 130 milioni anche se dovesse partire perché non è scontato se no Simeone ci fa il tweet subito contro la gente di Paraschelia anche giustamente si è arrabbiato Puoi fare una squadra veramente forte perché al Napoli se sostituisci Kim Sostituisci Kim prendi un grande centrocampista Le aline ormai ne ha mille Ma a proposito di mercato mi viene da pensare alla Juve Marcello ma sembrava dovesse per forza prendere un centrocampista ti facevano mille nomi cioè non fa nulla invece Giunto l'ha detto mercato chiuso Però non c'erano manco due settimane fa quando sembrava certo al cento per cento Volevano prestiti i prestiti non li hanno avuti da nessuna parte Nessuna parte Negli ultimi due o tre giorni magari una situazione si sblocca un'opportunità di prestito Poi c'è l'indice di liquidità che devi rispettare Ma Jordan Henderson non ti sarebbe piaciuto Se non vendi qualcuno non può entrare nessuno Stanno cercando di piazzare Ken Se piazzano Ken magari E comunque Giuntoli è bravo Però Se c'è l'opportunità Giuntoli secondo me Qua è il più bravo di tutti insieme Giuntoli Giuntoli è bravissimo Giuntoli è bravo E quindi se c'è l'opportunità giusta Non si vede già dal Napoli Stavamo parlando del Napoli Napoli con Giuntoli Guardate dove è arrivato È chiaro Anche in Champions League Che poi sta scaroneato Scusa ma non sei d'accordo Marcello con Allegri Che Jordan Henderson Ma senza Giuntoli Guarda il Napoli La Juve arriva a Giuntoli E dà il suo contributo E lo dà anche all'interno degli spogliatori Brava Perché è anche carismato Non solo per quello Esatto Cioè i giocatori lo ascoltano Jordan Henderson E dà una mano anche ad Allegri Facilita il lavoro di Allegri L'opportunità Marcello Si era creata Però sembra che Allegri Non fosse entusiasta Di Jordan Henderson Secondo te Poteva essere un valore aggiunto Allegri non piaceva Né Hoiberg Né Phillips Né Jordan Henderson Cioè alla fine dice O prendiamo Chi piace a me E ci serve Sai che io convengo con lui E' inutile andare a Perché poi ti prendi Un giocatore Cioè questi giocatori Tu Hoiberg Phillips Jordan Henderson 34 anni E' un po' attempato Ma gli altri due Le loro squadre da partenza Il City E il Tottenham Dicevano Sì ma non te lo diamo In prestito secco Per quello che non hai preso Cioè tu alla fine Devi andare a trattare Magari te lo devi anche tenere Con un ingaggio alto Un giocatore che magari Poi ti sta lì sulle croste Su quello non hai fatto Allora tanto vada Aspettare a giugno E dire Prendiamo poi quello Che possiamo prendere Ma che ci piace Che ci serve Infatti io credo Che 30 milioni Obbligo di riscatto La Juve non lo fa Perché non lo poteva fare Con chi? Con per esempio Phillips Avevano chiesto l'obbligo Io non parlo Phillips 30 milioni Eh ma io infatti Non parlo di quel tipo Di opportunità Io parlo dell'opportunità Sei mesi Un giocatore Perché proprio numericamente Magari quando manca Tipo stasera Manca Rabiot Gioca Miretti Però in panchina Non è che hai chissà chi Avere Jordan Henderson In più 5 mesi Mi sento più sicuro Ma se te lo davano In prestito secco Phillips magari Poteva anche arrivare Ma così non Perché Phillips Volevano l'obbligo Henderson Credo che si riusciva a fare Ma no Henderson Abbiamo valutato il fatto Che prende Uno stipendio della Madonna Non rinunciava a niente Non è che lui rinunciava Il problema è che Gli arabi non erano disposti a Perché lui dice La Juve mi dà meno Va bene Però alla fine Contribuiscono gli arabi Gli ha detto No c'è un contratto Lo rispetti Oppure te ne vai Cioè te ne vai definitivamente La squadra ti compri Infatti lui si è fatto acquistare Da Lions Però dico La Juve con Rugani Quando ha giocato Ha fatto bene Secondo me la Juve Dietro non è corta Davanti con Ildiz Che sta facendo Non è corta Sugli esterni Non è corta L'unico reparto Dove veramente Se hai una squalifica E un infortunio Rimani veramente A centrocampo È un pericolo Per questo dicevo Secondo me Non che dovevi prendere Il fuoriclasse Ma uno di quantità Però non puoi prendere Loro volevano tanto Prendere De Paul Vedi come il consiglia bene No peggio per la Juve Nel senso Però dico Secondo me Ha tutte le tabelle Di Simone Inzaghi Sì Ha tutto lì Ma loro volevano De Paul Il problema è che De Paul La tesi di Madrid In questo momento Se lo tiene Poi chiede anche Di bei soldi Ecco perché magari Gli dà in prestito Ken Che poi Glielo fai riscattare Per giocare contro l'Inter Sono sempre I soliti giochi di mercato Per giocare contro l'Inter Sembra che per il prossimo anno Voi abbiate già Un'opzione impesante Su Colpani Che è tanta roba Colpani Guarda io ti dirò Colpani Adesso in Italia Nonostante come l'anno scorso Coppani Coppani Quello è l'obiettivo numero uno Tanta roba quello lì Quello è l'obiettivo numero uno Quello è uno che sposta Quello è l'obiettivo Adesso bisogna vedere Quanto chiede l'Atalanta 50 L'Atalanta è una giovelleria cara 50 si tratta È una giovelleria cara 50 si tratta Perché anche i premier Possono intervenire Perché loro magari 50 Gli metti dentro anche un giocatore Che gli interessa A loro dei giovani Loro chiedevano L'esempio Healing Che gli piaceva Da vedere anche Gasperini Chi ti viene a chiedere La nostra fortuna Sportuna è questa Allora in Inghilterra La nostra di chi? Del calcio italiano Delle big italiane Hai un minuto 30 secondi Poi veramente L'ultimo minuto The last minute Vai 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 Giocatelo bene In Inghilterra In Inghilterra Quando uno fa bene in Italia E non fa bene nelle coppe europee Non lo valutano Vedi Bremer Grande difensore Diceva Vabbè però Dove ha fatto bene in Italia Devi far bene in Champions Nelle coppe Se Copp Mainers Non farà Grand Key N'Europa League Con l'Atalanta Non si metterà in mostra Magari dalla Premier Non arriva la grande offerta Però finora Finora in Europa League Con Mainers È per questo dito Quello sposterà Perché quelle di Premier Se vogliono fare l'investimento Ci sbaragliano via Perché abbiamo visto Cioè beh è ovvio Abbiamo visto I centrocampisti In Inghilterra Gli hanno pagati 125 Figurati si fanno il problema Per i tamburi Diretta studio rieccoci Nel frattempo è ricominciato Il secondo tempo a Salerno Sempre 1-1 Tra Salernitana E Genoa Ma noi adesso parliamo Un po' di Supercoppa Perché domani Ariad si assegna Il primo trofeo Della stagione 23-24 Se lo giocano Inter e Napoli Che poi insomma È un po' la finale Che sarebbe dovuta Esserci fin dall'inizio La vincente La vincente dello Scudetto Contro la vincente Della Coppa Italia Se domani l'Inter Vince la Supercoppa Inzaghi diventa L'allenatore Che ne ha vinte di più Perché andrebbe a quota 5 Staccando Capello E Lippi Però Inzaghi dice No a me non interessa Il mio record Io guardo Alla squadra Sentiamolo Sarebbe importante Per l'Inter Per tutto l'ambiente Perché sarebbe La terza consecutiva Penso che sia riuscito Una volta sola Al Milan Nella storia Nella storia Del calcio italiano Quindi sarebbe Sarebbe importante Non sarà semplice Abbiamo vinto Qui l'anno scorso Contro il Milan Due anni fa San Siro Contro Contro la Juventus E vorremmo farlo Domani Contro il Napoli Ci tengo Ma ci tengo Più per l'Inter Che per Simone Inzaghi Chiaramente Sarebbe Sarebbe bello Vincere Vincere la quinta Supercoppa Però Come ho detto prima Ho fatto i complimenti Ai ragazzi Che dal Dal 13 di luglio Da quando hanno cominciato A lavorare Antepongono tutti quanti Dal capitano All'ultimo ragazzo Della primavera Antepongono l'Inter Alle gioie personali Quindi è quello Che deve essere Il segreto Di una squadra Thomas Ma quanto sposta Questa Supercoppa Nel giudizio Poi Sull'Inter Sulla stagione Dell'Inter No sposta Che vinci un trofeo Però L'Inter Allora Io continuo a dirlo Deve vincere questo campionato Deve mettere la seconda stella Punto e basta Poi Questo trofeo Te lo giochi Perché è sempre un trofeo E lo devi vincere Perché arrivi in finale Adesso con il Napoli E lo devi vincere Ho visto una grande Inter Contro la Lazio Molto Molto forte Molto compatta Bella 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 Veramente mi sono divertito E poi ieri col Becca Parlavamo giustamente Adesso giochi la finale Con il Napoli Non è detto che puoi sbagliare anche una partita Perché ci può sbagliare una partita Se perde è perso la finale Però non cambia il discorso che l'Inter è sempre una squadra forte Ok quindi Questo è il succo della situazione Cioè mi stai dicendo che se la vinci Non conta Nel senso che non ci vince anche un studente Devi vincere perché sei un trofeo No La devi vincere Non è che non la devi vincere Però dico L'Inter Deve vincere la seconda stella Punto Questo è il primo obiettivo Questo vuoi dire Poi ti giochi una finale Arrivi in condizione straordinaria Perché abbiamo visto con la Lazio una grande Inter Quindi spero che domani E una piccola Lazio Una piccola Lazio Però secondo me l'Inter ha giocato veramente bene 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 Giochi con il Napoli Che in forma adesso ultimamente Quindi ha cambiato anche modulo Tante situazioni per il Napoli molto positive Quindi ti giochi questa partita importante E devi vincere la Coppa Anche lo scorso ha vinto 3-0 con il Milan Detto questo Vedremo adesso domani Come andrà a finire Parli con uno che Che ha sofferto anche Dell'eliminazione in Coppa Italia Ultimamente Per cui forse per me Io voglio vincerle tutte E la cosa che mi rincuora Che anche i calciatori dell'Inter La società Insomma non si tira indietro Sicuramente farà una ottima prestazione contro il Napoli Ci sono tutti i presupposti per vincere questa partita Io Non mi sento di vivere il Napoli come un antagonista Per la quale essere più di tanto felice Se dovessi vincere Perché sta nella normalità delle cose Per me l'Inter in questo momento è più forte Gioca meglio Ed è normale che debba impegnarsi alla morte Per portare a casa questo trofeo Detto questo è vero Dobbiamo sinceramente pensare alla seconda stella Perché questo è l'obiettivo principale Ma le vittorie aiutano a vincere Per cui siccome voglio ribadire quello che ho detto prima È la testa che fa la differenza Andare in un campo come quello contro la Lazio in semifinale E vincere così ti dà una forza a livello di emotività sicuramente diversa Di andare a giocartela e vincere di cortomuso Per cui per quanto mi riguarda ci sono tutti i presupposti per far bene L'Inter è condannata a vincere Perché è una squadra E' una società che dal momento in cui si iscrive a un campionato A una coppa Deve vincere Ma perché hai tirato questa bordata a murina così sul cortomuso Dove volevi arrivare? Perché in questo momento secondo me Hanno l'ossessione della Juventus Gira gira Ma secondo me non si parla di ossessione No, non è ossessione L'ho già ribadito più di una volta E rispetto la Juve come il Milan Sono due squadre che vanno rispettate In questo momento ci sono tantissimi punti in palio Ci sono tantissime partite Ed è ovvio ragionare così Vincere come vincete voi dà molta più soddisfazione di vincere 1-0 Tu ti ricordi come hai vinto con il Verona però? No, no, guarda che stai parlando con uno Che se fosse per me io la rigiocherei quella partita Ma non per gli episodi arbitrali No, perché analizziamo Monza e Lazio Ok, prima è la seconda volta che te lo sento dire Che siete in dominio completo del gioco Siete in ogni partita Avete il pallino del gioco in mano e il risultato Non è così Guarda invece non è che non è così E ti rifacere le parole di Massimo Quando diceva che Massimo diceva Occhio perché se scivoli dietro comunque hai Allora Se una partita si può sbagliare non si sa mai Non siete sempre in controllo Sai cosa ti dico? Siete la squadra più consapevole e più forte Ma non siete sempre in controllo Sai cosa ti dico? Che il problema dell'Inter Sono le occasioni sbagliate Perché all'interno di una partita L'Inter è in grado di buttare via 4-5 palle gol Chiarissime Che se avesse un po' più di cattiveria Farebbe Allora a questo punto Quello che mi sento di dire è Io non mi nascondo Possibile che quando uno dice Mi sento forte Deve Deba essere preso Come un arrogante E quando invece dice Ho rispetto per la Juve No, hai paura Non è così Anche perché C'è qualcuno che Nonostante tutto E secondo Punta ancora Arrivare al Champions League Ma ci mancherebbe Che ha 18 punti sulla quarta Ma l'obiettivo è arrivare al Champions League Quelle sono le dichiarazioni Lui ha appena parlato di arroganza Di spocchiosità Se Allegri dicesse Noi giochiamo per vincere lo Scudetto E l'avesse detto Settimane e settimane addietro No, io parlo di adesso Sareste tutti qua Ad additarlo Come l'arrogante Ma secondo me no No, perché i dati di fatto Dicono che può permettersi Di dire tutto questo Adesso Ma è ovvio Noi stiamo parlando adesso Sì, ma Però Dopo il pareggio interno Con il Bologna Io sentivo parlare Era la terza giornata Così era la quarta giornata Allora Arriviamo qui Ti va già bene Massimo, scusami Ti ho sentito dire Più volte Nelle scorse puntate Che la Supercoppa Secondo te In squadre come Milan Inter e Juve Quindi diciamo In questo momento Inter Sposta poco Cioè È più un trofeo Che sposta In piazze Meno abituate a vincere No? Ma Sia la Supercoppa Che la Coppa Italia Ma lo dicono Le stesse società Io Insomma Ho fatto anche Dei contatti A parte I premi Collettivi Che la dicono Lunga Che sono dieci volte Più alti Su uno scudetto Rispetto a una Supercoppa O una Coppa Italia Lo scudetto È capace Di arrivare A darti 500 mila euro A testa Una società La Coppa Italia La Supercoppa 50 mila E questo già la dice Lo dice la stessa società Cioè la società stessa Dice quanto è importante Questa competizione Poi è logico Sono d'accordo Uno è lì Deve giocare Si gioca una Una finale Un trofeo Ad alzare È giusto Che uno lo alzi È giusto Che uno Cerchi di portare a casa Un trofeo Che sostanzialmente Però Secondo me In queste squadre Juventus Milan Ne inter Che sono più Avvezze A lottare per gli scudetti A lottare per delle coppe europee Ha un significato Un valore Sicuramente diverso Rispetto Non so Senza nulla togliere Alla Lazio Alla Fiorentina Alla Roma Ma al Napoli stesso Quindi io credo che Insomma Questi trofei Poi Alla fine dell'anno Probabilmente Vengono ricordati Da qualche allenatore Ma io sono sincero Io non ho mai sentito Né Ancelotti Né Lo stesso Allegri Né Antonio Conte Alla fine dell'anno Dire Sì ma ho vinto La Supercoppa italiana In Zaghi L'abbiamo sentito Spesso Ho alzato un trofeo No Allora Massimo Scusami solo un secondo Ti devo interrompere Perché c'è un calcio di rigore Per il Genoa Per un Fallo di mano Tocco di mano E c'è stato anche Insomma Un bel po' di nervosismo Tra Gudmulso Nere Teghi Per chi lo doveva tirare E alla fine Gudmulso Strappa la palla A Retteghi Perché probabilmente Il rigorista disegnato Era lui Quindi lo va a calciare lui E lo tira fuori Può cambiare adesso La partita Minuto 58 Palla sul dischetto C'è Gudmulso Contro Ochoa L'arbitro rossato Ha indicato il dischetto Senza nessun tipo Di tentennamento Il VAR Ha confermato Parte ora Gudmulso E lo segna Gol Quindi Genoa In vantaggio Alla Rechi 2 a 1 Al minuto 58 Si ribalta Completamente La partita E in questo momento La Salernitana Torna Molto staccata Dal Quattro ultimo posto Insomma 6 punti Partita Delicata Concludi pure Massimo Dicevi Insomma Chiarissimo Quello che dicevi Grandi allenatori Internazionali Non si attaccano Alla Supercoppa No ma non solo Alla Supercoppa Io non ho mai sentito Io prendo Diciamo La massima esposizione Di chi probabilmente Comandatore Ha vinto di più E su più panchine Io non ho mai sentito Ancelotti Ricordare cosa ha vinto L'anno prima Ricordare cosa ha vinto Due anni prima Ricordare sempre Tutte le coppe dei campioni Che ha vinto Le finali A cui ha partecipato Eccetera Eccetera Io credo che Vabbè Poi ognuno Ma la comunicazione Secondo me È più esemplare Quella di uno Come Carlo Ancelotti Che ha vinto tantissimo Ma guarda sempre avanti E non guarda mai Al passato Guarda al presente E guarda al futuro Ma è un po' Un limite di Inzaghi Questo Ezio Quello Adesso oggi Non l'ha fatto A dire il vero Però l'ha fatto Per due anni Soprattutto quando Le cose non andavano Tanto bene Lui diceva Io ho vinto La Coppa Italia E la Supercoppa E ha vinto No beh L'ha fatto anche oggi Però scusa Federico L'ha fatto anche oggi Come non l'ha fatto No nel senso Oggi Noi abbiamo vinto Due Coppe Ci portiamo Questa sarebbe la terza Non l'ha mai fatto nessuno Cioè ci porta L'elenco Delle Delle Supercoppe Cioè secondo me L'ha fatto anche un mese fa Lo diceva Siamo già qualificati Per il mondiale Più avanti Dovrebbe essere Quello Sì Giochiamo questa Supercoppa Appunto e basta Cerchiamo di portarla a casa Appunto e basta Senza stare a rimarcare Quelle che hai già vinto L'ha sempre fatto Ribadisco Ribadisco Se io prendo in esame I migliori allenatori Anche secondo me Comunicazione Perché Carlo È anche uno Che comunica molto bene Con il suo modo Ma è uno Che ha imparato tantissimo Ecco Secondo me Lui è Il prototipo Dell'allenatore Che piace a me Anche nella Nella comunicazione Sì però Inzaghi l'hanno chiesto Gli hanno detto Questa sarà la quinta E lui ha risposto Sì sarà la quinta Quindi non è che Si è presentato In sala stampa In conferenza Per raccontare Però per due anni Lo ha fatto Ma certamente Perché era sotto assedio Mi piace anche dire Che Ancelotti Non ha bisogno Di ricordare Che cosa ha vinto Perché lo sappiamo tutti Perché continua a vincere E' ovvio Anche per Inzaghi lo faceva Quando Anche perché Dall'allenatore Fede Non lo faceva solo Quando era in difficoltà L'anno scorso a marzo Perché un mese fa Fa l'elenco Dei successi ottenuti Fino ad adesso All'Inter Ripete che abbiamo In questa stagione Abbiamo già Siamo già passati ai quarti Agli ottavi Scusate di Champions League Siamo primi in campionato Siamo qualificati Per il mondiale del club E come lui Tanto dice Questi qua sono andati bene E fa sempre l'elenco Per sottolineare Quello che ha fatto Perché del futuro Non vi è certezza Quindi lui Ce l'ha Ribagisco Quello che io C'è da dire Che lui Lo Scudetto L'ha vinto Da calciatore Con la Lazio Ma di Scudetti Non ne ha vinti Da allenatore Quindi forse Quanto spero Che vincerà quest'anno Ma io lo spero Che lo portano Lo spero Perché qualsiasi allenatore Si metta questa gioia Per te no Mario Però Su questa cosa Che ha detto Massimo Cioè la comunicazione Di un grande allenatore È superiore a questa Siete d'accordo? Allora assolutamente sì In Zaghi Le sue conferenze Sono notoriamente Da zero a zero Cioè Dice sempre cose Assolutamente Ovvie Scontate Però è anche vero Che in questo mondo qua Ogni volta che ti esponi E dici qualcosa di più Andreva intanto Su punizione Cioè 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 Scusa Vai 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 Sì stavo dicendo Che ci sono alcuni allenatori Eh Come ad esempio Conte Che io Apprezzo E ringrazio ancora Per averci fatto vincere Con l'Inter qualcosa E sono conferenze Dove ogni volta che apre bocca Crea l'articolo Crea il titolo Al giornale E sono due Due modi diversi Di comportarsi Alle volte senti il bisogno Di avere Una persona come Conte Che sia Davvero un capo Vero Certo Alle volte però Inzaghi È l'allenatore giusto Per stemperare In questo caso Ad esempio Non rispondendo A quello che aveva appena detto Allegri Su Guardia e Ladri Secondo me è stato Un bel modo Di fare calcio Di fare l'allenatore Lascendo cadere la cosa È stata gigantita Questa battuta In maniera Certo Però se voleva Poteva strumentalizzarla Invece è stato Inzaghi Ed si è comportato Come al suo solito Se qualcuno Si sente offeso Mi sembra di poter dire Che allora Avete un po' di coda No ma non si parla Non si parla di offendere Si tratta di strumentalizzare Che è un altro discorso Perché nessuno si offende Per una cosa detta Dai Però Se vuoi strumentalizzarla E portare polverone Laddove non ce n'è neanche bisogno Si può fare comodamente Ho sentito per 30 anni Battute del compianto Avvocato Frisco Del presidente Moratti E tutto quanto Anche pesanti Adesso William Ha detto È come quando Da bambino Giocavo a guardia Ma infatti Condivido La modalità di Inzaghi Secondo me Un altro allenatore Tipo Murigno Tipo Conte Magari avrebbe Messo l'accento Su questa cosa Avrebbe sicuramente replicato Ci dobbiamo fermare Ragazzi due minuti A rientro ancora La Supercoppa Ci sono anche delle parole Di Lautaro Martinez Di oggi La domanda era Abbastanza tranquilla Quando tornerete a Milano Insomma Arriverà finalmente Questo rinnovo E attenzione Perché Lautaro Non dice che arriverà Questo rinnovo Diretta studio Rieccoci Sempre due a uno Per il Genoa Salerno Con la salernitana Che attacca di più Ci prova Ma in questo momento È il Genoa A prendersi I tre punti Vi dicevo Lautaro Martinez Oggi era a fianco Di Inzaghi In conferenza stampa Domanda sul rinnovo Di contratto E possiamo andare Ad ascoltare La risposta Di Lautaro Non lo so Stiamo lavorando Con la società Io sono contento qua E come ho detto prima Sto pensando Alla partita di domani Poi arrivare a Milano A vedere ai miei figli Che mi mancano tanto E niente Però adesso penso Alla partita di domani Allora Massimo Parto da te Che sei un operatore Di mercato Voglio capire Perché si parla sempre Di Lautaro Inter Non ci sono problemi Rinnovo sicuro E probabilmente È anche così Sta di fatto Che quando gli chiedono Se il rinnovo è pronto Lui risponde sempre Non lo so Stiamo parlando Questo non lo so Che cosa Può voler dire Ma può voler dire Anche che Lui non ha La percezione Di cosa può essere Una sua frase Di questo genere Per la comunicazione In generale Quindi può essere Anche che lui Non ha questa percezione Che magari È stato preso Alla sprovvista Perché non si aspettava La domanda del contratto E probabilmente Non ha avuto Ultime notizie Dal procuratore Io l'antendo anche così Perché il calciatore Io sono stato calciatore Ma poi ho assistito Anche tanti calciatori A cui poi Ho dovuto dire Evita Di parlare Del contratto Non dire niente Ci stiamo lavorando Eccetera eccetera E magari questa è La soluzione Migliore Che gli è passata Per la testa Per dire Che praticamente Non è in questo momento Per lui All'interno Della sua testa La sua priorità Teniamo presente Che le interviste Poi vengono fatte Alla vigilia Di una partita Comunque Sempre una finale Comunque Sempre importante E quindi Il giocatore Ecco la testa Secondo me Non ha Qualcosa Che riguarda I contratti È un qualcosa Di personale Ma più per la squadra E più per Per affrontare Il giorno dopo L'impegno E la performance Bravo Massimo Grazie per quello Che hai detto Perché veramente Grazie davvero La lettura è perfetta Perché è così Condivisibile Però vuole anche dire Che comunque Il rinnovo va costruito Non è scontato Come è stato raccontato Cioè l'autaro firma Anche in bianco Perché sta bene qui L'autaro firma Se diciamo Quello che vuole Ma questo è il contratto Della sua vita Teniamo presente Che è un campione Del mondo Il capocannoniere E in questo momento Deve far valere I suoi diritti Quindi è normale Che lui debba Ambire a strappare Il contratto Migliore possibile Starà nella società Provare ad accontentarlo Perché lo merita E lo fa La società Inter Lo farà sicuramente Deve Non ci sarà problema Deve Ezio Lui hai detto Attenzione Attenzione Quando hai sentito Questo Lo faccio un po' Come il guffaccio Perché preferirei Vederlo con la maglia Del Real Madrid Per dire Che non Fra 15 giorni Incontrarlo Anche perché Ho ancora negli occhi Il gol Che ci ha fatto A Torino Pochi mesi fa Quindi è un grande giocatore È un grande bomber Segna Segna Con facilità estrema Quest'anno Ma non solo quest'anno I suoi gol li Sono sempre fatti Anche se devo dire Che a me Come punta Come giocatore Se devo guardare Un giocatore dell'Inter Negli ultimi stagioni Per me Il bomber Era Icardi Icardi era quello Che Primo o poi Dicevano Tecnicamente Come uomo d'area E come movimenti Sicuramente Anche forse Come fiuto Il gol Icardi È un giocatore Di una qualità Eccezionale Da far vedere Alle scuole calcio L'Autaro però È oggi Uno dei attaccanti Più forti d'Europa A livello di completezza Di come fa giocare La squadra Di come È bravissimo Venire a prendere L'incursione centrale Direttamente dai tre difensori O dai braccietti A far sponda A attaccare la profondità È un attaccante completissimo Gli arabi Gli offrono 30 milioni di ingaggio Real Madrid Gli offre 12 Di ingaggio Rimane qua Rimane qua A prescindere Rimane qua Lo dici tu Mi vuoi dire Che è la data del rinnovo Vuoi riprovarci Dopo il caso Scrinier Il 21 gennaio Questo non te lo dico Il 21 gennaio Sottoscrivi Che rimane qua Ho il mio pensiero Posso avere il mio pensiero Io ho il mio pensiero Secondo me Rimane all'Inter Gli argentini Sono fatti Di un'altra pasta Parlo di quest'anno Quale? Non sono come Scrinier Ma non solo Scrinier C'era qualcuno Che baciava la maglia E poi ha fatto 4-2 Per le vie di Milano Suonando il clacson Per lo scudetto E dopo 48 ore È andato via Lukaku Ti riferisci a Lukaku Quell'estate Dello scudetto Ma Lukaku Per me È uno dei giocatori Più sopravvalutati Del campionato Non solo italiano Ma in assoluto È un giocatore Che fa un altro sport Tecnicamente Lukaku Non è un giocatore Che può fare La differenza In una squadra La fa da solo Perché Chiaramente A livello fisico Ha qualcosa In più degli altri E questo è obbio Una grande fisicità Aveva anche Un allenatore Che si chiamava Antonio Conte Ma Antonio Conte Lo aveva tirato Veramente a lucido Antonio Conte Era il fuoriclasse Di quella squadra Il vero fuoriclasse C'è Walter Mazzarri Invece di fronte Domani Che non è un fuoriclasse Nella panchina di Napoli Non è un fuoriclasse Però sicuramente È un buonissimo allenatore E per la prima volta L'altra sera Con la Fiorentina Abbiamo visto il Napoli Con la difesa 3 Con la mentalità No? Mazzarriana Che sicuramente È un po' più pragmatica Un po' meno bella da vedere Però Magari può essere Più efficace Dell'ultimo Napoli Che stavamo vedendo Oggi domanda Mazzarri in conferenza stampa Firmerebbe per il pari Max È il Napoli Di Mazzarri Finalmente Questo? Ma Mi auguro Perché io credo Che Che Walter Deba cercare Di fare Al meglio Il proprio lavoro Col proprio credo Diciamo che è arrivato In una situazione In un momento In un momento Insomma importante Perché a mio avviso Se dovesse Vincere Questa Coppa Sarebbe Diciamo così Una spinta più che altro Psicologica Per tutto l'ambiente Che in questo momento È molto depresso Ricordiamoci che Fino a qualche mese fa Si era festeggiato Lo scudetto E si pensava Lì a Napoli Che si sarebbe potuto Ripetere O comunque Che il Napoli Avrebbe potuto lottare Anche quest'anno Per il titolo Per quello che Avevamo visto Poi purtroppo Invece le cose Per Napoli Napoletane Sono andate In modo Completamente diverso E io quindi Credo proprio Che In quel caso La maggiore responsabilità Ma lo ha detto anche lui Sia del presidente Che ha stravolto Completamente Tutto Perdendo A mio avviso Due uomini Fondamentali Per quello scudetto Che erano fuori Dal campo Uno era Luciano Spalletti E l'altro giunto Eh sì Adesso devo dire però Marco Che almeno Stando alle ultime di mercato Intanto il Napoli Delle big È quella che sta nettamente Comprando di più Sì si è mossa di più E mi dà l'idea Di un De Laurentiis Che sta seguendo Le indicazioni di Mazzarri Nel senso che Gli sta facendo un mercato Per cercare Di farlo giocare Come vuole lui Quindi Allora secondo me Era una follia Pensare Che Mazzarri arrivasse Anche che se era Adesso poi L'ha ribadito ancora Che lui dice se posso Tornerò al 4-3-3 Cioè Un allenatore deve Prendere il giocatore Ha detto una cosa intelligente Non abbiamo la velocità Dello scorso anno Manca Kim Nella zona centrale Non siamo più bravi A correre all'indietro Come eravamo lo scorso anno Con un baricentro molto avanzato Ho preferito abbassare Il baricentro Non andare in pressing Ultraoffensivo Perché il Napoli Quando ha perso Anche con l'Inter Ha fatto una buonissima partita Però L'Inter che poi Molto brava ad abbassarsi Non ai livelli della Juve Che si abbassa Delle volte Al limite dell'area Però diciamo A contenere Alla poco a metà campo E ripartire Sa benissimo Che potrebbe Prestare il fianco In questo caso Deve fare una squadra A sua immagine e somiglianza O comunque come lui È bravo a valorizzare i giocatori E quindi Il mercato va in quella direzione E lui finalmente Ha messo qualcosa di suo dentro Perché è un allenatore bravo È un allenatore comunque Che ha delle Per quanto poi ha allenato Diciamo di grandi squadre Solo l'Inter Guarda che bravo Io ho giocatori Che l'hanno avuto Mi hanno sempre parlato bene Di Walter Mazzardi Un allenatore che fa giocare bene Che insegna anche calcio Quindi io mi fido anche Dei giocatori che l'hanno avuto Poi dopo uno Può avere una fortuna Può avere un'altra È arrivato nell'Inter In un momento difficile dell'Inter Sicuramente Negli anni diciamo Più difficili Tra l'altro Pensa che lui arrivò quarto Ma quando ancora Arrivare quarto Non va Sì Non ti portava in Champions Ricordiamoci che Spalletti Che è un grandissimo allenatore Tutti riconosciamo un valore Arriva quarto Perché vince a Roma Con la Lazio All'ultima giornata Quindi fondamentalmente Mazzardi Poi a livello comunicativo Un po' particolare Questo sì Però tutti me ne parlano bene Oggi Io ho visto la partita Con la Fiorentina È un Napoli Che Più operaio Più operaio Che deve recuperare Attraverso quella Anche quella voglia di difendere Perché poi ragazzi Nel calcio viene spesso Trascurata Spesso guardiamo La riosità del gioco Ma poi se tu Non la combini Però ci sono Scusa Marco Ci sono poi peraltro Due giocatori In Coppa d'Africa Che sono importantissimi Ecco Ghisar ragazzi Dimentichiamoci Cioè Osimena e Ghisar Ragazzi Che danno Un peso specifico Importante Cioè Averli Non averli Cambia Fa tutta la differenza Sì sì no Scusa Apprezzo l'assist Quindi io ti dico E ti dico anche di più Il Napoli L'Inter Adesso poi spero Di non sbilanciarmi troppo Perché magari la Gufo Però Troverà più fatica Con un Napoli Con il baricentro abbassato Di quanto abbia fatto fatica A San Paolo E ne ha fatta tantissimo Bravissimo Però l'Inter Quando trova un baricentro Vedi la partita con la Juve Dove fondamentalmente È stata una partita Da pareggio Dopo nessuno delle due Voleva sbilanciarsi Fa fatica Ad aprire il gioco Quando una squadra Tende a abbassare il baricentro Però le parole Le parole di Mazzarri Dicevano esattamente il contrario Perché lui in conferenza Ha detto Noi andremo a giocarcela E quindi Ma però Secondo me Tu puoi giocarcela Stando basso Con il baricentro Arribante Però normalmente Quando arriva Un nuovo allenatore C'è una svolta Il Napoli Ha perso con la Roma Adesso ha vinto La partita con la Fiorentina Ma prima Ha vinto con la Salernitana All'ultimo minuto Ha perso 3-0 Con il Toro Ha pareggiato Con il Monza Quindi non mi sembra Che abbia portato Tutta questa No 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 Io ho detto Con la Fiorentina Sei vista La mano di Mazzarri Ho detto questo Cioè però Forse quelle sconfitte Che hai detto tu Ezio L'hanno portato A vicinarsi più A sua idea di calcio Basta me la gioco Col mio credo Inutile che sto qui A provare a fare Secondo me domani Perde sonoramente Dall'Inter Guarda io non lo so Spero che sia la partita Comunque è un peccato Vedere una squadra Come Napoli Senza Osimene E senza Un centrocampista Così forte Questo non è un infortunio Un incidente No certo Tu all'inizio dell'anno Sai che dei giocatori Che vanno in Coppa d'Africa Se li prendi Sai che corri Non questo rischio Ma hai questa certezza Che per un mese Un mese e mezzo A gennaio Febbraio Quello che Ti vanno via Lo sai Non è un infortunio Non è rabbio Che si fa male Però è chiaro Che prepari due partite Totalmente diverse Con quei giocatori in campo Chiaramente ti presenti Con altre aspettative Quando Vedi il calendario Sai che Quelle partite lì Quei giocatori lì Non li avrai Sentiamo in Zaghi Cosa dice Sul Napoli Anche sul Sul nuovo Sistema di gioco Che usa Ramazzani Thomas Sarà una partita diversa Rispetto a quella Di campionato Dove l'Inter Trovò le praterie Poi al di là Che delle polemiche Che ci furono Per alcune situazioni Arbitrali Diciamo che L'Inter lì Andò sul belluto No? Sì Tramite gli episodi Tramite gli episodi Che sono successi Però Sì Magari sta lavorando In questo modo Magari Con quel modulo lì Non gli ha portato frutti Come diceva prima Ezio Ha segnato con la serenità Nell'ultimo minuto Ha fatto fatica col Torino Fatica? Ha preso tre partite Ha fatto fatica Quindi Giustamente Ora lì E cerca di cambiare modulo E giocherà Con questa difesa a tre Adesso mi sembra che Domani giocherà con un 3-4-3 Guarda ce ne abbiamo le probabili formazioni Possiamo andarle a vedere intanto 3-4-3 Quindi L'unica cosa è che Questo è il mio punto di vista Di Lorenzo lì dietro A tre Eccolo qui In Napoli Non mi convince tanto Però Mazzocchi Largo vedi A quattro lì e mezzo L'unica cosa è questa Non lo vedo Lo vedo più Sulla difesa a quattro Di Lorenzo Non da centrale Da braccetto Però Di solito Quando un allenatore Fa questa cosa Marco è Perché vuoi dare un po' più di certezza Dare una mano Ma se vuoi dare certezza a se stesso Cioè Veramente Perché comunque Lui è molto bravo A allenare la difesa a tre Ha sempre giocato con la difesa a tre Mazzarri Poi dopo uno può studiare o meno Ma le certezze A me oggi D'allenatore Che non ho Purtroppo l'esperienza Di questi Che stiamo citando Se mi dicessero Gioca improvvisamente con la difesa a tre Sì Farei più fatica Di quante certezze Abbia con la difesa a quattro Cioè quindi Io credo che C'è una copertura maggiore Col 3-4-3 Un modulo Che fai veramente fatica A incontrarlo Perché le scalate Sono difficili da fare Di Lorenzo Centrale Sicuramente è un po' un'invenzione Ma non è detto Che non sia un valore aggiunto Deve stare lì Deve stare lì Ma non è vero perché Bastoni sta lì Sì no va bene Bastoni sta lì Ok però voglio dire Cioè tu Ormai la difesa a tre È uno dei tre Aiuta almeno 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 al centro campo Tanto in fase di postazione Sì però giocare così Con un Turamo Un Lautaro Che scappano via in quella maniera Diventa difficile Hai sempre la superiorità numerica No 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 Certo Hai sempre la superiorità numerica difensiva Qualcosa provi a fare Che scappano via in quella maniera